Musica Manca davvero pochissimo alla chiusura della sessione estiva di calcio-mercato. Nicola Kalinic è virtualmente da considerarsi un giocatore della Roma. L'accordo con il club c'è ormai da giorni e l'unico tassello da incastrare prima di vedere il croato nella capitale la cessione di Schick a un passo dai tedeschi dell'Ipsia. Kalinic lascia la Spagna dove non ha trovato spazio tra le fila dell'atletico del ciolo Simeone. Arriverà in Italia in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro e percepirà un ingaggio di 2,4 milioni fino al prossimo giugno. L'allenatore della nazionale italiana Roberto Mancini, oltre a Giorgio Chiellini, dovrà fare a meno anche di Mattia De Sciglio. Per far fronte alle due assenze causa infortuni, in vista del doppio impegno contro Armenia e Finlandia, il CT ha chiamato Francesco Acerbi e Danilo D'Ambrosio. Il ritiro degli azzurri si terrà a Bologna, dove i giocatori resteranno fino a martedì. Mercoledì poi trasferimento per Jerevan, dove il 5 settembre si giocherà la prima gara contro l'Armenia, padrone di casa. Domenica 8 settembre invece la partita contro la Finlandia, entrambe valide per le qualificazioni ai prossimi europei. La Ferrari torna al successo e lo fa con Charles Leclerc, che si piazza sul gradino più alto del podio in Belgio. Il pilota Monegasco trionfa per la prima volta in carriera in Formula 1 davanti ad Hamilton e dedica la vittoria all'amico scomparso Antoine Hubert. Terzo gradino del podio per Valtteri Bottas, soltanto quarto l'altro ferrarista Sebastian Vettel. Gara complicata e difficile per Leclerc, che dopo la pole è un'ottima amministrazione della corsa, si ritrova negli ultimi giri in difficoltà per colpa delle gomme. Hamilton riesce con una serie di giri veloci a portarsi a ridosso della Ferrari, ma Leclerc resiste e strappa una vittoria importantissima e storica. Una vera e propria festa delle bocce alla Beach Arena Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, con Giovanni Bozzino e Salvatore Daulerio, che si sono laureati campioni d'Italia. I due giocatori pugliesi, ma praticanti in Abruzzo, si sono aggiudicati il titolo sbaragliando la concorrenza di 32 coppie di boccisti provenienti da quasi tutte le regioni. Bozzino e Daulerio hanno sconfitto nella finalissima il duo Pietro Temporali-Francesco Rotondi, vincitoria cattolica. Sul podio, sotto gli occhi del segretario generale della Federbocce Riccardo Milana, Giuseppe Palluca, Marco Bedini e Paolo Cerri-Daniele Cecchi. Un epilogo dopo due anni di lavoro. La conclusione di due anni di lavoro, cominciati con delle fasi promozionali due anni fa, il nostro lavoro è stato quello di cercare adesioni negli stabilimenti balneari delle varie località italiane. Alla coppia vincitrice è andato un premio di 1000 euro e la FIB ha garantito anche l'ospitalità dei giocatori in campo. Giocatori di tutte le età, la finale è stata l'apice di un lungo percorso on the beach, con grande divertimento per un'idea sulla quale la Federbocce è stata lungimirante, facendo prodare la disciplina sportiva sulle spiagge italiane. Sono fiero di giocare, ho preso questa passione per le bocce, faccio parte di un gruppo e rappresento un gruppo, amici delle bocce create da me e Fernando Volgarino. Bella manifestazione, complimenti a tutti, un'esperienza positiva. La prima esperienza a livello nazionale è stata bellissima. Grazie a tutti i collaboratori che ci hanno venuto bene dall'inizio già, come siamo arrivati, ci hanno preso in simpatia. Grazie a tutti i collaboratori, a tutti quelli di San Benedetto del Tronto. E tutti gli amici che ci hanno sostenuti.